Parliamo dell'Isola Dischia, del presente ma soprattutto di quale futuro possibile e lo facciamo in compagnia dell'albergatore isolano Aldo Presutti. Buonasera Presutti. Allora, cominciamo prima di guardare a quali ipotesi di prospettive e di progetto possibile per il nostro territorio, facciamo un attimo il punto della situazione attuale. Com'è partita questa stagione 2019 dopo i noti ponti del 25 aprile e del primo maggio e con la Pasqua? Che tipo di presenze c'è stata in termini numerici e di qualità sul nostro territorio? Sicuramente come numeri abbiamo raggiunto un numero che sia sicuramente un numero invidioso quando lo vogliamo leggere così e sulla carta. Se vogliamo guardare l'effettivo potenziale che avrebbe potuto dare questo pubblico, forse non ha soddisfatto quello che sperava il commercio e tutto l'indotto dell'Isola Dischia. Abbiamo sentito un po' in giro quelle che sono state già le prime lamentele di questo cosiddetto pubblico che da un punto di vista qualitativo non premia e non soddisfa le esigenze di una maggior parte dei commercianti. Vanno bene sostanzialmente bar e ristoranti, quindi il consumo perché queste persone per le mani un caffè, una colazione, un pranzo e una cena la devono pur consumare. Però poi la borsa, la scarpa, il vestito insomma farà un po' più fatica ad andarle ad acquistare. Noi abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato negli ultimi 20-30 anni, ragion per cui noi abbiamo un bellissimo orticello e se noi seminiamo un qualche cosa di basso rendito non è che ci possiamo aspettare che possono nascere delle rose, ragion per cui questo è il risultato. Non è che ci dobbiamo meravigliare di quello che è arrivato sull'Isola Dischia. Certamente non è il caso di trovare colpevoli a tutti i costi, però dovendo fare un po' per guardarci dentro e per capire dove sono gli errori, è un qualcosa che è imputabile esclusivamente alle categorie commerciali o anche agli amministratori pubblici di quest'Isola? La colpa da che parte sta, se di colpa vogliamo parlare? Il mio pensiero è uno, il passato è morto, il presente ormai sta passando e io credo che noi dobbiamo guardare solo verso un futuro e guardare un futuro completamente diverso di quello che è stato fatto fino adesso, se vogliamo avere realmente un cambiamento. starci a piangere addosso o tirare fuori tutti i personaggi o le categorie per dare le colpe è tempo sprecato. Guardiamo avanti, cerchiamo finalmente con delle idee, con della volontà e del sacrificio invertire la rotta per l'Isola Dischia. Chiaramente per poter programmare e mettere in essere una qualsiasi iniziativa ci vuole del tempo. Prima di arrivare a ciò, facciamo un attimo un'ultima analisi, che tipo di stagione turistica ci aspettiamo allora, questa 2019? È già compromessa o si può ancora recuperare qualcosa di buono per quest'anno? Ma io direi che è un po' un ternalotto perché l'Isola Dischia, proprio perché nei ultimi anni era molto assente a programmare qualcosa di sicuro, debbiamo sperare nella fortuna del tempo, nella sfortuna magari di qualche altra meta turistica. Oggi fare una programmazione vera e propria è pressoché impossibile. Dobbiamo sperare di essere fortunati, ecco, altro non credo che oggi possiamo dare come dato di reale, ecco, non c'è una reale proiezione che ci possa dare dei numeri concreti. Lei però tutto sommato è ottimista perché per lanciare un progetto così a 360 gradi come lei sta facendo in questi giorni vuol dire che crede nella possibilità di rivoltare e ribaltare la situazione completamente perché lei non solo punta al discorso turistico ma ne fa addirittura una questione di carattere culturale ed è quello che è importante, cioè di fondare una cultura di essere isolani per amare sul serio la nostra isola. Allora, io ci credo perché chi conosce l'isola di Ischia sa che abbiamo un territorio unico, un territorio che è talmente pieno di risorse che veramente ci vuole un'abilità a non saperle sfruttare, ragione per cui sono ottimista, ero sempre ottimista, solo che purtroppo fino adesso forse non si è mai voluto realmente sfruttare quello che abbiamo. Se iniziamo a renderci conto della fortuna che abbiamo, qui abbiamo un'infinità di risorse. E partiamo proprio da lì. I primi passi, le prime cose che si devono fare, si possono già fare da subito per incominciare questa lenta risalita verso un rilancio del nostro territorio, un po' come è stato negli anni 60, come i nostri padri ci hanno consegnato un'isola nel boom pieno del turismo, nel boom economico. Allora la prima cosa, io sto creando questo movimento e i primi passi sono quelli di cercare persone che hanno realmente a cuore l'isola di Ischia e il futuro dell'isola di Ischia. Allora il primo passo è quello di formare un gruppo di lavoro che abbia questa volontà del cambiamento. Dopodiché è chiaro che se si è formato il gruppo, io ho già messo giù un po' i miei pensieri di 34 anni di presenza sull'isola di Ischia e chiaramente si andrà a raccogliere tutte le idee, tutto quello che l'ischitano di qualsiasi fascia, di qualsiasi categoria possa dare per arricchire questo programma che io vedo oggi per un futuro molto ottimistico dell'isola di Ischia. Lei punta tantissimo sui giovani e quindi ha addirittura ipotizzato la possibilità di evitare, di invertire la rotta cioè di evitare che questi nostri giovani vadano all'estero a lavorare, quindi queste menti, queste risorse riportarle qui a casa loro, a lavorare per il loro bene e per il bene del nostro territorio addirittura ipotizzando fonti di studio, addirittura una sede di una università lei crede tantissimo nella rifondazione dell'isola partendo anche dalla cultura. Sì, le dico questo, io in questi anni che ho vissuto qui a sull'isola di Ischia ho incontrato spesso dei giovani che avevano tante idee e tanta volontà di fare però poi ogni volta che loro hanno cercato di poterli realizzare o di mettersi in prima fila sono stati immediatamente stroncati e io questo è quello che invece voglio evitare. riportare dei giovani perché molti giovani che avevano delle ambizioni non potendole realizzare sulla nostra isola ovviamente l'hanno cercato altrove. Allora se io riesco insieme con questo gruppo che vorrei formare a dare di nuovo una reale speranza a tutti i giovani, sia quelli che sono rimasti sia quelli che sono espatriati dall'isola per farli ritornare, per lavorare insieme, possiamo non solo appuntare per un discorso di un turismo di qualità ma dare mille alternativi per tutti i giovani che oggi vogliono intraprendere un lavoro che magari non ha a che vedere con il turismo. Perciò è una forbice talmente ampia che l'isola oggi ci dà come possibilità che credo che queste speranze per i giovani sono veramente realizzabili su un'isola come Ischia. Infatti negli ultimi anni si sta riscoprendo, grazie anche a qualche finanziamento europeo, la possibilità di ritornare alla terra, quindi un'agricoltura che si riapre, quindi non solo viti, non solo vino ma anche agricoltura fatta anche ecosostenibile, quindi i nostri prodotti che vengono così portati sulle tavole non solo degli ischitari ma anche venduti altrove. Quindi riprendere il valore della terra oltre che la pesca, i pescatori ormai ce ne sono pochissimi e vanno sempre più finendo come categoria, quindi bisogna, come dice qualcuno, rifondare anche il modo di andare a pesca con i moderni sistemi, con anche quelle che sono le prospettive legate al pescaturismo, quindi questo turismo che entra in tutte le circostanze. Insomma, terra e mare che possono continuare ad aiutarci. Ma sicuramente il mondo è cambiato in questi anni, i costi sicuramente sono lievitati molto e oggi magari la piccola azienda, la media azienda fa fatica per realizzare lo sforzo che mette a poter trarre un benefit. Però ci sono oggi dei mezzi e dei sistemi come poter creare delle cooperative o come poter aggregare tutto un sistema che possa rendere, rendere per chi ci lavora e dare all'isola di Ischia questa linfa da poter sfruttare la terra e il mare. Lei sa benissimo che noi basta che andiamo a guardare il nostro sottosuolo, noi giusto per dirne qualche punto di quelli che io ritengo che sono da mettere in atto immediatamente è sfruttare l'energia che abbiamo sotto terra. L'energia vulcanica, le acque calde, energia alternativa, alternativa pulita e a questo punto non so dire addirittura che io non ho più bisogno della terraferma per avere l'energia elettrica, abbiamo varie sorgenti di acqua e anche potabile e possiamo evitare di chiedere l'acqua dalla terraferma con delle condotte che c'è una perdita notevole di quantità di acqua. Allora se noi riusciamo a essere, chiamiamolo a virgolette, autonomi in molti circostanze, non solo ecologicamente possiamo migliorare ma abbiamo dei risparmi notevoli, ma io vado anche oltre, parlo anche dei rifiuti solidi urbani, noi oggi basta guardarci un po' intorno a quello che sono riuscito a fare in altri luoghi, in altri paesi, noi possiamo sfruttare al 100% tutti i rifiuti solidi urbani sul nostro territorio e a questo punto riusciamo a abbassare drasticamente i costi alle utenze per quello che riguardano i rifiuti solidi urbani, che è un costo che è ormai inaccettabile. Allora se noi entriamo in quell'ottica a dire sfruttiamo tutto quello che abbiamo, mettiamoci le nostre idee, mettiamoci la nostra buona volontà, io credo che per quest'isola non c'è più un discorso di stagionalità, non c'è più il discorso di cosa faccio nel periodo invernale, come faccio a sopravvivere, ma noi arriveremo a un punto che avremo bisogno anche di persone da fuori che ci vengono a dare una mano. Lei di questo suo progetto ne ha parlato con i suoi colleghi albergatori? Allora guardi, io ho parlato con molte categorie al di fuori dei albergatori, io non voglio fare una critica ai miei colleghi, però io oggi riesco, faccio un po' di fatica a trovare persone con cui intraprendere questa conversazione, perché le generazioni un pochettino quelli un po' tipo la mia, diciamo i oltre 50 anni, le vedo ormai spompati, svogliati, che non hanno più voglia di mettersi in gioco. La nuova generazione la vedo molto assente, non ho rapporti con loro, so che abbiamo un nuovo Presidente all'Associazione Albergatori di Ischia, dove io non faccio parte perché io mi sono iscritto a Napoli, alla Conf Turismo, però per quello che ho capito questo Presidente ancora non ha le idee chiare che cosa c'è da fare a Ischia e questa è una partenza sbagliata, perché noi sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare, allora se io mi vado a candidare Presidente, io so quello che devo fare, non mi faccio eleggere Presidente e poi dico adesso mi prendo il tempo per valutare. Infatti questo movimento, che poi dovrà essere un movimento che entrerà nella politica, perché se non abbiamo l'amministrazione in mano non possiamo fare nulla, perché purtroppo il sistema nel mondo funziona così. Allora noi abbiamo del tempo davanti, non solo a scrivere delle belle idee e progetti sulla carta, ma troviamo anche già il metodo, come realizzarli, come finanziarli, dove poterli realizzare e nel momento che andremo a fare la campagna elettorale parliamo con dei fatti concreti. Poi non è detto che dovrò essere io il candidato, perché un movimento sceglierà la persona più adatta che rappresenterà questo movimento nella campagna elettorale. È un movimento abbastanza ambizioso, è inutile nasconderlo, tra i principali detrattori e critici si potrebbe trovare qualcuno che potrebbe anche dire, aspettavamo il presutto di turno che ci venisse a dare la ricetta per risolvere con la bacchetta magica tutti i nostri problemi. Che cosa si sentirebbe di rispondere ad un'eventuale critica del genere? Allora non è il presutti che risolve i problemi dell'isola d'Ischia, perché non è che io mi voglio dare queste aree di personaggio della bacchetta magica, però io posso forse essere la persona che ha raggiunto una certa età, ha raggiunto un certo livello economico che mi consente di poter ricambiare quello che mi ha dato questi isolà, che l'ha già dato ai miei genitori e mi ha dato anche a me benessere, a mettere questa esperienza e questo aiuto alla comunità. Poi dopo il presutti è l'inizio di un discorso che poi dopo presutti avrà un suo ruolo o meno, non sarà decidere presutti, presutti non cerca una poltrona, non cerca favoritismo, non cerca nulla, perché presutti, grazie di Dio, a 57 anni ha lavorato abbastanza bene, ha investito i suoi soldi in maniera che oggi si potrebbe anche permettere il lusso di mettersi già riposa 57 anni, ho ancora voglia di lavorare e credo dopo che sento solo lamentele, pianti e sconforto dico, allora ragazzi voglio essere io quello che mando il segnale e insieme, non Aldo Presutti, ma insieme cambiamo l'isola di Ischia. Credo che forse lo scoglio più duro, la montagna più faticosa da scalare sarà quella dell'unità, perché ovviamente in sei amministrazioni, in sei comuni diventa difficile un dialogo, diventa difficile anche mettersi insieme e tirare fuori una sintesi, così come le categorie che sono divise e sparpagliate, ci sono diverse associazioni di commercianti, albergatori che aderiscono o non aderiscono a federalberghi, insomma come è possibile, ci riusciremo secondo lei un giorno ad avere una unità di intenti, cioè un centro unico, perché no il comune unico se così vogliamo dire? Allora guardi, io ho messo un titolo che si chiama un comune unico di idee, perché io non mi sento oggi in grado a dire io riesco a fare il comune unico o qualche altra cosa, però io posso realizzare un comune unico di idee e io credo che ognuno che vive su questo territorio dovrebbe avere in meno il buon senso a dire le cose vanno male e devono essere cambiate, poi sarà Giovanni Pasquale o chi sia il leader di questo cambiamento e va benissimo, certo abbiamo tante categorie, abbiamo tante associazioni, abbiamo tutto questo, però io credo che alla fine l'idea e la voglia di cambiare l'abbiamo tutti, perché altrimenti tutte queste associazioni non avrebbero senso di essere, per cui tutti sono ben accettati a far parte di questo movimento e perché dovremmo escludere qualcuno? Noi qua non dobbiamo escludere nessun schieramento anche di idea politica, allora non parlo dei politici, ma idea politica per me va bene, a chi piace il PD, a chi piace la Lega, il movimento 5 stelle, i comunisti, i fascisti, possiamo metterci tutti dentro, qua noi non parliamo di politica, noi qua parliamo di impresa, che poi impresa e politica in qualche maniera è una cosa che si unisce, perché anch'io faccio politica nella mia azienda, politica imprenditoriale, allora io faccio il discorso dell'imprenditoria nella politica, va bene, lo invertiamo il discorso, allora noi non escludiamo nessuno, non escluderemo ovviamente, anzi le metteremo in prima linea l'operaio e i sindacati, perché noi dobbiamo lavorare insieme con tutte le categorie per cambiare quest'isola? Abbiamo parlato del rapporto tra albergatori e politica, l'ho detto di Federalberghi, però a livello nazionale viene fuori questa grossa dichiarazione del Presidente nazionale di Federalberghi Bocca che l'altro giorno a Capri ha detto chiaramente la tassa di soggiorno viene utilizzata dai comuni per tappare i buchi dei bilanci, quante volte l'abbiamo sentito più volte anche dire nei nostri comuni dell'Isola Dischia quando qualcuno dalle categorie chiedeva ma fateci capire come spendete questa tassa di soggiorno, cosa fate per migliorare il territorio, per accogliere i turisti e c'è stata sempre lettera morta, addirittura oggi si chiede al Ministro di intervenire e di chiedere al Comune di pubblicare online chiaramente dove vanno a finire questi soldi della tassa di soggiorno, lei che cosa ne pensi? Sicuramente si deve fare chiarezza, però le voglio ripetere, a me il passato e il presente non mi interessa, a me mi interessa solo il futuro, cosa faremo con la tassa di soggiorno, come lo utilizzeremo? Che andiamo a guardare dietro, possiamo trovare il colpevolo e le andiamo anche a fare delle indagini, questa sarà la magistratura e chi che sia, ma a me come imprenditore, a me mi interessa quello che succede domani, perché tutto quello che è stato fatto ieri, se sono stati sprecati i soldi, tutto ormai è fatto, fatto, allora io voglio fare questo movimento che non è il movimento delle critiche, ma è il movimento del fare, cioè il mio pensiero che forse va in contrasto un po' con tutto quello che oggi noi vediamo in televisione dei politici, che non fanno altro che parlare del passato, dei vari politici che ci sono stati, dei politici che sono attualmente al governo e questa faida, questo conflitto, queste discussioni continuative non portano a nulla, noi oggi e io faccio anche un appello al nostro Ministro dei Interni Salvini, non perché voglio fare politica, io sono stato e ancora comunque lo vedo come persona dinamica e positiva per l'Italia, però se potesse oggi dare un consiglio a lui direi, non è parlare più dei porti chiusi, della Fornero, di quello che hai fatto, di quello che hai fatto un mese fa, due mesi fa, la gente lo sa ormai e diventi ripetitivi, poi non è che deve parlare di quello che lui ha fatto, lui deve dire quello che andremo a fare, quello che deve fare il governo per il futuro, smettere a litigare, a discutere, hai fatto un accordo con un altro schieramento, avete voluto fare un contratto, andate oltre, andate a andare avanti nel migliorare questo Paese, perché che voi vi scannate, che voi iniziate a parlarvi addosso e vi andate a sputtanare tutto, chi paga siamo sempre noi, allora faccio un appello al caro Salvini, fermati un attimo, fermati un attimo con la campagna elettorale, abbiamo capito tutto, tutto chiaro quello che hai fatto, guarda avanti e sicuramente ci darei una mano a noi imprenditori, alla popolazione, ai lavoratori, ai pensionati, a tutto questo Paese così meraviglioso. Noi continueremo questa nostra chiacchierata periodica per capire ancora meglio quali sono le prospettive che Aldo Presutti ha in mente e che vuole promuovere e che vuole chiarire alla cittadinanza e alle persone di buona volontà che vogliono dargli una mano, così come immagino faremo qualche dibattito a più voci con altri imprenditori per capire anche se l'idea arriva al cuore e alla mente di altri. Ma adesso, giusto per chiudere questa nostra prima chiacchierata con il beneficio della nostra telecamera, a chi vogliamo rivolgere un appello, un invito, dove venire, che cosa fare per allargare questo movimento, così come l'abbiamo fin qui rappresentato? Prego. Allora io faccio un appello all'isola intera, a tutte le persone di buona volontà, a tutte le persone che realmente hanno a cuore la nostra isola, le persone che hanno la sensibilità a chi viene anche dopo di noi, per ridare a quest'isola quello che merita, perché quest'isola noi abbiamo avuto un dono di Dio, perché è un'isola che è di mille risorse, allora se abbiamo voglia di fare, lasciamo tutti i rancori, discussioni, polemiche, armiamoci, uniamoci e faremo delle cose veramente alla grande. Io ci credo e invito anche a voi a crederci.